Ciao! Fatto! La prossima volta useremo la colla a caldo per attaccare i fiori ai cappellini e creare un accessorio speciale! Alla prossima! Per oggi è tutto da My Melody fai da te su YouTube! A presto, iscriviti al canale e metti un like! Ottimo lavoro, My Melody! Grazie ancora per l'aiuto, ChocoCat! Sì, guarda quanti like! Mi piace, mi piace... Non è possibile! Qualcuno ha messo non mi piace! ChocoCat, devi aiutarmi! Dobbiamo capire a chi non è piaciuto e chiedergli come poter migliorare! Questo potrebbe richiedere l'uso delle mie abilità da detective! Mi piace! Risalirò al server d'origine di quel non mi piace usando la mia intuizione baffuta! Oh, ma dove ho sbagliato? Il materiale che ho usato, le riprese, quello alla prossima! Cosa ho fatto per meritarmi quel non mi piace anonimo? Ho bisogno di un consiglio! Tu continua, torno subito! Salutami, Hello Kitty! Hello Kitty, qualcuno pensa che il mio canale sia orribile! Cosa? My Melody fai da te, è bellissimo! Sto pensando di creare la mia pariordigioielli! Ma ho ricevuto un non mi piace! Non era mai successo prima! Un po' di crema, per favore! Certo, Buzz! Arriva subito! C'è qualcosa che non va e non so cosa sia! Ehi, posso avere un po' di zuccherini? Vuoi dirmi che il tuo canale non aveva mai ricevuto un non mi piace? Non mi accade spesso! Almeno fino a oggi! Ciao! Vorrei un po' di crema con una spolverata di cacco! Va bene che roppi! Ora il cocco prima gli zuccherini! A nessuno piace la crema come la fai? Beh, non si può piacere a tutti! Come no? Ah ah! Io faccio la crema così come piace a me! A qualcuno piace mentre qualcun altro la modifica un po'! Oh! Immagino che valga lo stesso anche per il mio canale! Ah ah! Allora, forse dovrei continuare a fare ciò che mi piace e vedere chi altri lo apprezzerà! Esatto! Ben detto! Ragazzi! Guardate cosa ho scoperto! Ho incrociato gli indirizzi IP di tutti gli iscritti! Sono così tanti! Oh 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 oh! Hai scoperto che ha messo il non mi piace! Affermativo! Il non mi piace arriva direttamente dal tuo tablet! Cosa? Oh wow! Che colpo di scena! Sei stata tu a premere per sbaglio il tasto non mi piace! Stavo scrollando troppo velocemente! Eh 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 eh! Grazie per il tuo aiuto ChocoCut! Aiuto? Per tutte le citazioni! Il mio è stato un contributo fantasma! Non è servito al tuo canale! No! Ma mi ha aiutato a capire che non si può piacere a tutti! Ciò che importa è che il canale piaccia a me! Ed è così! Mi piace! Zero non mi piace? Eh 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 eh! Forse può davvero piacere a tutti! Ciao amici! Grazie per aver guardato le avventure di Hello Kitty e i suoi amici! Iscrivetevi al canale YouTube e non dimenticate di attivare le notifiche così da non perdere le nostre prossime avventure! A presto! Ciao! 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 Ciao!